Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora e con me non c'è Lulu Perché ho intenzione di fare uno scherzetto Allora, andiamo per gradi Siamo ancora col covid in casa, siamo in quarantena E nulla, siamo molto tristi per questo, ma forza e coraggio E nulla, ora non ci pensiamo, pensiamo allo scherzetto che dobbiamo fare alla nostra Lulu Parlo un po' a bassa voce perché sennò Lulu, sapete, è un po' furbetta e mi sente Vi ricordate? Circa un annetto fa, Ludovica che scherzo mi aveva fatto? Ludo, vogliamo fare un gioco? Ludovica, ma mi... Vogliamo colorare insieme? Che ne dici? No, lo sarà là per 24 ore Quello scherzo lo andrò a ripetere io a Ludo Avrò la mia rivincita Così avrò la mia rivincita su Lulu E ragazzi, secondo voi alla fine si arrabbierà? Oppure sarà contenta che la ignorerò? Vedremo E comunque Ora andiamo e mettiamo un atto lo scherzo Avrò la mia rivincita che sta sentendo la rivincita che vuoi fare mi vuoi suonare per 24 ore tua sorella? Vado a prendere una setta e ora vediamo come resiste Ragazzi lo scherzo sta molto 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 funzionando Meno male così ho la mia rivincita Auri Auri dove sei? Eccoti finalmente Ti ho cercato da 100 ore Allora Che stai facendo? Un brinco Posso starci pure io? Sì Allora Dai Facciamo un tiktok insieme con un fristro Così Se ti metterò un certo faccia Oppure ti faccio il salernico E tic 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 Non mi ami più Sono tua sorella Ehi ci sei? Sei sozza? Beh devo dire però che questo sfondo Nel tuo foto sono verde Devo dire Questo disegno che ho fatto Ehi Vabbè dai guardiamo un po' Ok Vabbè vado via Abusi idea Vediamo Se mi prende E la rossetta E la rossetta E la rossetta E la rossetta Andiamo a prendere un bel corona Andiamo Ragazzi quando ho detto Auri perché mi ignori Io Io ho troppa tenerezza No 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 Però Insomma È uno scherzo Sì è uno scherzo Sì è uno scherzo Non lo sa bene Saluto bene Un'idea Puppi Regalino beale E ora vediamo Se mi ignora Sì Porterò Questo gigante Così si chiama Insieme Un canolino Ok Ok ho preso Prendato E il regalo Eccola Allora Guarda questo com'è bello Quale decidi? Vabbè Io decido Quello grande Pazienza Perché a te Anche se non mi accosta Che no Che bello Che sono i pop it Meglio sistemare tutto Perché ho una Signora Da sola Raui tocca a te Vabbè Pazienza Gioco da sola Uno Uno Vabbè Vado a fare merenda Ho dimmi chiesto qualcosa Ah no Il telefono Ma Neanche l'avevo portato Ragazzi Dai Visto che avranno Mi risponde Posso toccare Sui trucchi Che bello fare? Cazzo di sì Vediamo Se mi parla Vediamo Vediamo Questo Uscito Eccolo Eccolo Il mio preferito Che non mi posso usare mai Ok Vabbè Aurora Sto usando I tuoi trucchi Che cosa? Sta Utilizzando I miei trucchi E io ora Come faccio Se la devo ignorare? Vabbè Intanto Andiamo E vediamo Che cosa sta combinando Però Comunque La La ignora Insomma Ecco Che cosa sta combinando Che cosa stai Che cosa sta combinando Allora ho usato due trucchi, non fai niente vero? Non mi voglio! Allora se mi dici di no, non posso! Non sono tanto brava però, non fa niente! Io sono il prossimo preferito! Lo preferò un po'... Troppo forte! Ah! Ragazzi! Sta per fallire il mio scherzo e il mio piano tutto! Come faccio? Come faccio? I trucchi sono la mia vita! Calmiamoci! È solo uno scherzo! Cioè... È solo un piccolo scherzo! Mi piace, ma ho consumato tutto il rossetto! Ragazze, state mangiando? Sì! Uh! Che buono! Questa è la mia popoletta! Mmm! Buonissimo! Sono buoni? Mmh! Ah! Sono buoni! Posso prendere i tuoi? Comunque i tuoi sono più buoni dei miei! Anzi, mangiare i tuoi! Non fa niente, vero? C'è qualche problema? Auri! Ma cosa stai facendo? Aurora? Che c'è? Che cos'è? Cos'è? Cos'è il suo disastro? Ma che è successo? Mamma, sto controllando se Ludovica ha fatto qualcosa e... Come... Scusami! Come... Stai vedendo? I miei rossetti! Sì! Aurora, ma come mai hai dato i tuoi trucchi a Ludo? Questi sono intotti! Eh? Perché hai dato i tuoi trucchi a Ludo? Allora... La situazione è molto lunga! Cioè? Tutto è partito! Da quando io ho ignorato Ludovica! L'ho ignorata! Visto che non la pensavo! Perché la stai ignorando, poverina? Perché... In passato Ludovica ha fatto la stessa cosa a me! Quindi vorrei... Vendicarmi! Cioè, ma stai parlando di un anno fa che Ludovica ti ha fatto questo scherzo? Eh! Quindi tu dopo un anno ti stai vendicando? Eh! Hai la memoria lunga, vedo, eh! Ah, modestamente! No, ma anche guardando i video su YouTube nostri, eh! Mi sono ricordata! Avrei anche altre vendette da fare! Ma su, dai! Adesso vi preparo la merenda, dai! Andiamo di là! Oh, frena, frena, frena! Ludovica ha i suoi trucchi! Perché deve usare i miei? Guarda quanti ce ne ha! Perché deve usare i miei? Scusa, tu perché non glielo dici che non deve toccare i tuoi trucchi? Allora... Invece di ignorarla? Perché non le parli? Sì, vabbè, mamma, ma dai! È uno scherzo! Sì, va bene, dai! Adesso vieni a fare merenda, su! Muoviti! Eh, ci credo, poverina, dai! Su, andiamo! Ok, ora la devo ignorare! Ludo, cosa fai, amore? Sto giocando da sola, visto che ora non mi parla! Non ti parla, quella cattivona! Come mai? 2, 3, 1, 2, 3... Eccola! 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 Finalmente! Stavo giocando tutto da sola! Eccola! 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 Auri! Eccola! Ledezza! Tavoglio! Èennань un glühle! Il cavallo! Te lo so! Nessuno che ci manca gliela, bro... Questo è il cavallo! Non c'è? Ops! Cos'è? Non parli, ti sei persa la lingua, ti sei mancata la lingua, sono invisibile! Allora becchiti questa! Vieni qua! Devo andare in bagno! Vieni qua! Uff, ora non mi vuole più bene! Ma cosa gli ho fatto? Non gli ho fatto niente di male! Allora adesso mi toccherà dormire da sola! Scherzetto! Mamma, mi hai ballato! Humore! Eh sì Lulu ma tu non sai una cosa! Ludo sediamoci un attimo! Va bene! Dov'è un po' più in là? Allora! In realtà non è che ti ho ignorato perché hai fatto qualcosa di sbagliato quindi ero un po' arrabbiata con te e ti ho ignorato ecco! No! Ma ho la paula spacca, glielo dico! Ecco, era uno scherzo! Cosa? Cosa? Brava, brava ti sei vendicata! Ma lo sappi che ti farò un altro scherzo con papà! Ma scusami quando tu mi hai messo quella nutella sulla bocca? Io che dovevo dire? Dovevi ridere! E poi quando hai usato i miei trucchi! Ma guarda che sono... Guarda che sono caluti! Io li uso molto ecco! Però tu comunque non li dovevi usare! Perché li hai rovinati tutti! Non ti permetterò più! Ludo! L'ho detto! Possiamo chiarire! Basta! Ma se vanno questi! Prende il flatto! E la stono! E va bene ragazzi! Il video finisce qui! Noi vi salutiamo! Speriamo che questo video vi sia piaciuto! Anzi questo scherzo vi sia piaciuto! Ed è riuscito alla grande! Però devo dire che... Aiuto a me! Iscrivetevi e attivate la campanellina! E lasciate tantissimi pollicioni in su! Fatelo eh! Ciao ciao! No Ludo! No Ludo! Calmiamoci! Calmiamoci! Grazie a tutti! Grazie a tutti.